A Padova, nelle vicinanze di Piazza Mazzini, c'è l'Istituto Superiore Leonardo da Vinci, una scuola con una sede centrale prestigiosa, l'ex convento delle Maddalene, e una lunga storia che ne ha fatto uno degli istituti professionali più importanti della città. Una storia che ha saputo rinnovarsi, perché l'obiettivo del da Vinci è preparare oggi i giovani alle professioni di domani. Oggi Leonardo da Vinci si propone agli studenti che terminano il percorso delle scuole medie con 4 indirizzi di studio, tutti della durata di 5 anni, 3 indirizzi professionali, servizi commerciali, anche con l'innovativa opzione web per la community, e servizi per la sanità e l'assistenza sociale, e l'indirizzo tecnico del turismo. Il vantaggio ad avere sia l'Istituto Professionale che l'Istituto Tecnico è che abbiamo acquisito una metodologia didattica, che è quella tipica dei professionali, ovvero l'individualizzazione del percorso didattico, e questa metodologia viene spesa anche a favore degli studenti e dell'utenza dell'Istituto Tecnico. Tutti i percorsi sono pensati per favorire lo sviluppo di competenze fondamentali, per l'accesso ad un mondo del lavoro sempre in evoluzione. Ma tutti offrono la possibilità a chi lo desidera di continuare gli studi all'università. I primi anni di scuola qui a Da Vinci non avevo le idee ben chiare, a tutto pensavo tranne che a continuare gli studi. Poi con il passare degli anni mi sono appassionato ad alcune materie, economia aziendale in particolare, ed arrivato in quinta la mia strada era già segnata. Attualmente studio economia e commercio alla Cafoscari di Vanezia, e grazie alla mia formazione sono riuscito ad affrontare al meglio discipline giuridico-economiche. Tre anni il corso dei servizi commerciali, pensato per preparare esperti amministrativi e contabili in aziende o studi professionali, è stato ampliato, con la possibilità di seguire la specializzazione web per la community, molto apprezzata e la possibilità di approfondire l'informatica in uno dei laboratori presenti a scuola, per diventare community manager, un esperto di marketing digitale. Le sedi di Leonardo da Vinci sono tre, tutte comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici, e tutte con aule dotate di PC, collegamento internet e LIM, la lavagna multimediale per lezioni più coinvolgenti. Sono una studentessa del quinto anno dell'indirizzo tecnico turismo del Leonardo da Vinci. Nel mio indirizzo le materie sono molto interessanti, perché facciamo lingue e anche altre materie normali, però tutte improntate nel mondo del turismo. Questa scuola è molto stimolante per tutte le esperienze che si possono fare, sia all'estero, come per esempio in Francia e in Spagna, o anche qua in Italia, come per esempio la Fiera delle Auto e Moto d'Epoca, o l'Aimun, che è un'esperienza tutta fatta in inglese, o a Venezia o anche a Cividale. Venite a Leonardo da Vinci. Il Leonardo da Vinci è una scuola che vuole scoprire il vostro talento e valorizzarlo. Abbiamo molte attività, alcune delle quali ci rendono unici in città. Mi riferisco soprattutto alle attività Moon, Model United Nations, dove i nostri ragazzi si trasformano in delegati presso le Nazioni Unite, simulando i lavori esattamente come alle Nazioni Unite. Poi abbiamo molte attività di PCTO, tra le quali possiamo citare esperienze in agenzie di viaggi o in strutture turistiche di vario livello. Gli studenti diplomati con l'indirizzo professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza maturano competenze nell'ambito del benessere fisico e psicologico e si avviano a esercitare la loro professionalità nella cura della persona o perfezionando gli studi nei corsi di laurea dell'area sanitaria, psicologica, educativa o dei servizi sociali. Sono al quinto anno dell'Istituto Leonardo da Vinci, indirizzo sociale. Quando sono entrata in questa scuola non sapevo cosa avrei voluto fare da grande, ma affrontando le materie di indirizzo dalla terza in poi, ho capito che mi piacerebbe molto fare fisioterapia. Questa scuola mi lascia moltissime amicizie con i miei compagni di classe e un bellissimo rapporto con i professori che nonostante i nostri mille alti e bassi ci sono sempre stati e ci hanno sempre aiutato. Sono a contatto con una Olus, si chiama Anziani a Casa Propria, una realtà extrascolastica ma conosciuta qui a scuola. Io grazie a queste attività sono riuscito a congiungere l'attività teorica imparata a scuola e a inserirla nel campo pratico. Nel nostro caso abbiamo scelto il da Vinci perché ha una notevole tradizione di inclusività nei confronti dei ragazzi più fragili e comunque il ruolo del genitore non si ferma qui, ma prosegue pure come per esempio nel mio caso a livello di consiglio d'istituto che è un organo sostanziale dove il contributo del genitore può essere importante nel guidare e nel consigliare anche la scuola nella scelta di quelle che sono le offerte formative e in generale di quelle che sono le scelte tecniche di indirizzo nella gestione scolastica. Una scuola che sa cosa significa inclusione, perché noi abbiamo la forza di dare valore ad ogni differenza. Il da Vinci dà la possibilità di spendere competenze utili nel mondo del lavoro, una risorsa importante per l'economia del territorio. Vieni a scoprire Leonardo da Vinci, una scuola tutta da vivere.